Il prossimo artista, anche lui è parte di Team Baguette Aspetta, ma voi dovete fare il casino ogni volta che dici Team Baguette No, no, ma per se io dici Team Baguette per caso Comunque lui è un parte di squadra di panna L'equipe c'estibata No, e Team Baguette Per voi, f**k le patsy, go crazy per lecce Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.